Nell'estate 2011 ho potuto fare un tirocinio presso l'azienda Iper. Da quel momento la mia competenza in campo forestale si è arricchita notevolmente, anche perché ho potuto conoscere un software altamente specializzato in campo forestale che è IDMA. Per quanto riguarda l'arricchimento culturale ritengo che l'esperienza è stata formativa in quanto ho conosciuto la cultura della Repubblica cieca e la bellezza della città di Praga dove si conoscono belle ragazze e si provano buonissime birre.